Buongiorno cari amiche telespettatrici e cari amici telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino con i giornali in edicola La Nostra Rassegna Stampa. Oggi sabato 4 novembre 2023, scopriamo insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani nazionali. Sono tre i temi principali, fondamentali, toccati oggi sulle prime pagine. Si parla della riforma costituzionale del premierato, arriva il sì del governo e vediamo, leggiamo sulle prime pagine le reazioni politiche. Poi la tempesta Ciaran in Toscana e Veneto, ci sono morti e dispersi e poi ancora focus sul conflitto in Medio Oriente. Entriamo nel vivo della nostra Rassegna Stampa, come di consueto leggendo la prima pagina del Corriere della Sera che apre sul fango e acqua, morte in Toscana, maltempo, varato lo stato di emergenza, gli effetti della tempesta Ciaran perché ha colpito l'Italia e quanto durerà? Sette vittime, una in Veneto e polemica sull'allerta. Paure e danni da nord a sud, sei morti e due dispersi in Toscana e un'altra vittima in Veneto a causa della tempesta Ciaran che ha in queste ore spazzato l'Italia. Fiumi e sondati, mareggiate, le province più colpite sono quelle di Prato, Pistoia e Firenze. I danni polemiche sull'allarme non dato, stanziati dal governo 5 milioni di euro decretato lo stato di emergenza nazionale. Quanto durerà la tempesta? Poi fotonotizia a centropagina, l'ira, il dolore, abbiamo perso tutto. Un'immagine scattata dall'elicottero dei vigili del fuoco sulle strade, i campi divorati dalla piena a campi Bisenzio. E poi sì al premierato, così sarà la riforma, Meloni, basta Ribaltoni e governi tecnici, questa è la madre di tutte le riforme. Così la premier Giorgia Meloni ha commentato la decisione con cui il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge sull'elezione diretta del capo del governo. Basta ad esecutivi tecnici, Ribaltoni ha continuato la premier. Pause umanitarie, no, di Bibbia agli usa, Hezbollah incita ma non attacca. Nella striscia raid vicino all'ospedale, Netanyahu respinge la richiesta di Washington per una pausa umanitaria nel conflitto in Medio Oriente, minacce da Hezbollah ma nessun attacco. Nell'editoriale di Polo Giordano leggiamo nel labirinto di due conflitti. In alcune città dell'est ucraina capita di vedere accanto alle fermate degli autobus dei lunghi blocchi di cemento austeri senza ingressi né uscite evidenti simili ad asteroidi precipitati. Sono i bunker urbani che gli israeliani hanno ispirato alla popolazione ucraina per difendersi dai bombardamenti russi. In città come Nikopol dove a lungo è mancata l'acqua i bunker sono ormai diventati degli orinatoi ma a volte servono ancora. La primavera scorsa durante una visita di Stato in Israele la vicepresidente del Parlamento ucraino ha dichiarato il bisogno costante di adattarsi a vivere e lavorare in condizioni di pericolo è quel che unisce l'Ucraina e l'Israele. Era vero prima del 7 ottobre, oggi li unisce anche l'essere entrambe, nazioni in guerra. A costare le due crisi in corso offre probabilmente più rischi che benefici, può risultare pretestuoso se non addirittura indecente ma è pur vero che i conflitti si sono sovrapposti e competono fra loro per la nostra attenzione nonché per il nostro sempre più limitato cordoglio. Poi gli italiani divisi su Gaza per il 46% la reazione sproporzionata e poi l'escalation antiseminta il Viminale dal 7 ottobre, casi triplicati. E poi andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani leggendo la Repubblica che apre sulle riforme della destra assalto alla Costituzione. Titola così il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità l'elezione diretta del Premier unico caso in Europa. Meloni la madre di tutte le riforme. Schlein è un pasticcio pericoloso. E sulla telefonata fake il Governo fa dimettere il consigliere Talò. Troppa superficialità. Intervista da Mato. Camere Quirinale saranno più deboli. Premio di maggioranza. Al 55% ipotesi doppio turno sono le novità del Premierato che da ieri ha il via libera del Consiglio dei Ministri. Conflitto in Medio Oriente. Nasrallah Hamas non deve perdere. Leggiamo l'analisi di Paolo Garimberti. Muscoli e la diplomazia. Nel suo attesissimo discorso da Beirut, trasmesso in diretta televisiva ma non in Israele, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha mostrato i muscoli ma non ha imbracciato il fucile. Almeno per ora. E poi il Papa e la Chiesa in tempi di guerra. Ilvo Diamanti scrive Papa Francesco è sempre presente di fronte agli eventi che attraversano e turbano la scena globale, in particolare in questi tempi di guerra, o meglio di guerre, che si susseguono. Emergenziamo al tempo. La tempesta Ceran, flagella la Toscana. Sei morti e due dispersi. Polemica sull'allerta. E poi continuiamo. Nella lettura la stampa apre su Netanyahu, Blinken e il grande freddo. Il primo ministro israeliano boccia la tregua al USA irritati. Hezbollah minaccia ma il Libano non entra in guerra. E poi l'analisi di Lucia annunziata. Il Medio Oriente resta sospeso, sollievo i sospetti. Il discorso tanto atteso di Hassan Nasrallah, capo religioso e politico di Hezbollah, il Partito di Dio ha lasciato il Medio Oriente sorpreso e sospeso con un discorso denso di evasione e ambiguità. In ogni caso, sul tavolo rimane la frase solo un cessato il fuoco può evitare l'allargarsi del conflitto. Pronunciata mentre il premier israeliano negava al segretario di Stato americano la tregua umanitaria. Nasrallah è un uomo politico di quelli che iniziano sempre le riunioni partendo dalle fasi, le riunioni come i comunisti una volta, iniziando a svolgere il filo della situazione generale e poi via via scendendo nel dettaglio, indicando i punti con uso meticoloso dei numeri. Poi si parla anche di geopolitica. Da Gaza al Sudan, i popoli mendicanti, scrive Domenico Quirico. Volete una definizione semplice e svelta per stringere un pugno subito su tutto? Eccola, i popoli mendicanti sono quelli che vivono ai margini, sono quelli che fanno storia come i malati fanno la malattia. Sì, sopravvivono davanti ai muri. Vecchi trucchi costruiti alla fine di ogni guerra. Via al premierato, i dubbi di Meloni, presidente del Consiglio eletto dal popolo. Alla premier non piace la norma, anti-ribaltone, meglio subito il voto. Il governo varrà alla riforma costituzionale, la leader ai suoi, Mattarella, non deve lasciare. Il governo quindi all'unanimità ha approvato il testo di riforma costituzionale che introduce una sorta di premierato all'italiana. Il disegno di legge inizia il suo lungo percorso parlamentare. Ecco la fotonotizia a centro pagina. Travolti dal fango e il maltempo. Devasta l'Italia. Sette vittime, due dispersi. Mercali, quelle morti evitabili. Leggiamo nel richiamo di Caterina Stamin. La Commissione dei Marchi, istituita dopo l'alluvione di Firenze del 1966, spiegava che bisogna smetterla di costruire nelle zone a rischio. L'abbiamo fatto? No. E poi ancora i focus. Si parla di storia. Gianduiotto-Gate tra Torino e Svizzera. Luca Ferrua, se scarti un Gianduiotto ti accorgi subito che emana profumo di nocciola e quella nocciola così intensa è solo della IGP Piemonte. Poi in bocca diventa velluto. Si scioglie lentamente ed è cremoso. Lentamente sulla lingua ti fa sentire tutti gli aromi della nocciola. Il cacao è delicato. Poi andiamo avanti nella lettura. Venire apre sul premierato. Un premier all'italiano. Il Consiglio dei Ministri vale il progetto costituzionale alla ricerca di maggiore stabilità ma preoccupa la cancellazione degli equilibri. E' letto direttamente con premio di maggioranza e senza limiti di mandato. Non ci saranno più governi tecnici. Meloni, questa è la madre di tutte le riforme, le opposizioni, Parlamento e Quirinale mortificati. Il Paese rischia. E poi leggiamo nel richiamo di Roberta D'Angelo. La Terza Repubblica potrebbe essere alle porte. Dopo aver evitato i riflettori dal giorno della notizia della falsa telefonata, Giorgia Meloni arriva davanti alle telecamere per presentare la madre di tutte le riforme. Una priorità è fondamentale, dice Fiera, in tono quanto mai solenne e proprio perché siamo un governo stabile e forte. Abbiamo la possibilità di porci il problema anche sul dopo, senza dover legare la rivoluzione costituzionale alla sua permanenza a Palazzo Chigi, visto che si tratta del cuore del programma elettorale. Se dunque la riforma venisse bocciata all'eventuale referendum, questo non comprometterebbe la premiership vis a Meloni. Memore della fine del governo Renzi. Il testo finale, che contiene correzioni in previsione di una nuova legge elettorale, rende meno rigido il passaggio a un governo bis. Ora vale camere con PD, Movimento 5 Stelle e azione pronte alle barricate. Intervista al costituzionalista Marini tra i padri del provvedimento e la democrazia neoparlamentare. I poteri del Colle sono toccati in minima parte. Bene, il referendum sarebbe una legittimazione. E poi Hezbollah non la dichiara, ma siamo già in guerra dagli estremisti libanesi, la minaccia ad Israele. Mal tempo, Toscana lagata sotto shock, sette vittime, Campi Bisenzi e Prato, le città più colpite dallo straripamento dei fiumi. Mareggiate in Liguria, lo tsunami di acqua e fango arriva d'improvviso giovedì sera, autotrascinate per decine di metri dalle sondazioni del fiume Bisenzio. Video shock di cittadini sorpresi dalla furia che il ciclone Ceran ha scatenato soprattutto su Prato e provincia. L'alba di ieri presenta uno scenario spettrale che adesso le telecamere dei vigili del fuoco restituiscono nella sua drammaticità. Dopo una giornata passata a cercare a scavare il bilancio di sette morti e due dispersi. Le prime vittime sono anziani, fragili, soli, disorientati. E poi economia, la vera economia deve partire dal dolore umano, la terra del noi. Luigino Bruni scrive la controriforma è stata una stagione ambivalente dove i luminosi esempi dei monti dei Francescani si intrecciarono con fenomeni bui in altri terreni. Per la scienza economica italiana fu però un buon tempo. E nell'editoriale di Danilo Paolini si parla di riforme ed equilibri da garantire. Maneggiare con cura è il titolo. Andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani. Il sole 24 ore apre sulle società tecnologiche. Big tech, taglio ai costi e più 45% di utili. Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta e Netflix hanno riportato nel trimestre chiuso a settembre scorso un fatturato accumulato di 408.479 miliardi di dollari. I profitti invece sono saliti a 60.852 miliardi. E l'effetto del focus sui business tradizionali oltre che del pressing sui costi operativi. Senza dimenticare peraltro l'intelligenza artificiale che ottimizza i processi e aiuta nella pubblicità. Quindi si parla dei risultati in crescita grazie alle efficienze operative al business tradizionale, l'intelligenza artificiale che ottimizza i processi e la borsa fa selezione. Da nuovi controlli è concordato almeno 900 milioni all'anno. Questa è la riforma fiscale dell'accertamento e il debutto del nuovo concordato preventivo biennale scritta nel decreto attuativo della riforma fiscale che ieri ha ottenuto il primo via libera in consiglio dei ministri. Puntano a portare nelle casse dello Stato almeno 900 milioni all'anno. Cifre prudenziali ma la riforma secondo i tecnici potrebbe pure portare dei numeri anche più importanti. Fotonotizia a centro pagina, emergenza ambientale, troppo smog, delle chiude le scuole e limita le attività di lavoro all'aperto. La sagoma dell'India Gate venerdì mattina volta dallo smog che soffoca la capitale indiana. Nella fotonotizia a centro pagina. Poi maltempo Toscana, stato di emergenza, sei morti, mareggiata in Liguria, colpito anche il nord-est. Sei vittime in Toscana e alcune persone ieri sera ancora disperse. È il primo bilancio tragico del passaggio della tempesta Ceran sull'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. In Toscana resta lo stato d'allerta colpite. Liguria e nord-est stanziati 5 milioni per gli interventi più urgenti. E poi leggiamo, continuiamo a leggere le prime pagine. Il resto del Carlino, disastro continuo e lampante. Il titolo della fotonotizia a centro pagina. Il ciclone Ceram sull'Italia, devastazione in Toscana, sette morti e due dispersi. In 20.000 assenza energia elettrica, danni enormi e sondano fiumi e torrenti. Paura in Veneto, mareggiate sul Tirreno. E poi continuiamo, leggiamo l'eco di Bergamo. Apre su ansie e disagio interiore. Gli studenti chiedono aiuto. In 28 scuole bergamasche, lo sportello di ascolto psicologico, il report di ATS. E poi ancora, sì, alla legge per sostenere la montagna. Il primo ok in via preliminare è arrivato dal Consiglio dei Ministri. Inizia il percorso del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il cosiddetto DDL montagna a cui lavora il Ministro degli Affari Regionali e Autonomia, Roberto Calderoli. I passaggi sono ancora tanti. Conferenza unificata per proseguire il confronto con gli antiterritoriali. Poi di nuovo il Governo per l'approvazione definitiva. Quindi l'approdo in Parlamento. Tra le iniziative previste con la legge c'è anche la stesura di un elenco dei comuni montani sulla base di parametri come l'altimetria e la pendenza. Tra i punti chiave sanità e scuola con punteggi aggiuntivi e incentivi per insegnanti e medici che operino in realtà montane. Sono inoltre previste agevolazioni per i giovani fino a 40 anni che scelgano di avviare un'impresa di acquistare o di acquistare l'abitazione principale in montagna e delle imprese che promuovono il lavoro agile. L'obiettivo di fondo, dice Calderoli, è la lotta ai divari e allo spopolamento. Fotonotizie centrali, export alimentare USA Record e poi Atalanta Inter serata di gala. Andiamo avanti nella lettura. La Gazzetta del Mezzogiorno apre verso il Premierato, sì del Governo, al disegno di legge costituzionale, polemica sul Decreto Sud, bugie dall'opposizione. E poi il crack delle sud-est col conto dei PM, chiesti 12 anni per l'ex a Fiorillo. E poi si parla delle comunali per Bari, un dem che sappia fare il gioco di squadra. Emiliano traccia la rotta con il modello Foggia. Io e De Caro non ci faranno litigare. E allora continuiamo, proseguiamo la lettura dei nostri quotidiani, leggendo come di consueto anche il messaggero, il premierato, via libera la legge anti-ribaltoni. Gaza abbassa vittime civili. Pressing USA su Netanyahu, ma Tel Aviv frena tregua solo se rilasciano gli ostaggi. Prudenza di Hezbollah, operazione solo palestinese, colpito l'ospedale occupato da Hamas. Quindi il pressing USA su Netanyahu per una pausa umanitaria. Tel Aviv invece frena solo se appunto rilasciano gli ostaggi. E poi Toscana, fango, morti e veleni, maltempo. Sette vittime, due dispersi, polemiche sull'allerta arancione. Ecco nella fotonotizia la zona dei campi, Bisenzio, allagata. Suicida a 15 anni, il padre indagato, IPM, la istigata, Ancona. Il gesto prima della visita ginecologica, c'è il sospetto delle nozze combinate in Bangladesh. C'è un indagato per la morte della 15enne bengalese, deceduta giovedì pomeriggio dopo essere volata dal balcone di casa sua da un'altezza di 12 metri al piano in il quartiere multietnico di Ancona. Il papà della ragazzina l'accusa e istigazione al suicidio. I sospetti per una visita ginecologica prenotata e l'ombra di un matrimonio combinato in Bangladesh, dove la famiglia stava per portarla. E poi premierato via libera, la legge anti-ribaltoni, Palazzo Chigi, il referendum non inciderà sul governo. Il Consiglio dei Ministri approva l'unanimità. Il premierato, Giorgia Meloni, inizia la Terza Repubblica. Stop ribaltoni ed esecutivi tecnici. C'è ancora un nodo da risolvere il premio di maggioranza. Trappola russa lascia l'ambasciatore. Meloni è un errore per superficialità. Il premier la telefonata ha esposto la nazione. È stato il primo a prendersi la responsabilità, scrive Francesco Becchis. Dopo il polverone sulla fake call di Giorgia Meloni con due comici russi, Francesco Talò non è più il consigliere diplomatico della premier. E poi taxi. L'antitrust incalza i sindaci. Roma, Milano e Napoli. Più licenze. L'autorità aumentare i mezzi di oltre il 20%. L'antitrust ha avviso ai sindaci subito nuove licenze, taxi e l'autorità ha chiesto ai comuni di Roma, Milano e Napoli di intervenire rapidamente. Disagi in aumento con tempi di attesa lunghissimi e richieste in evase del 40%. Il mattino apre sul premierato ancora una volta. Il sede del governo passa la riforma in Consiglio dei Ministri. Meloni stop a esecutivi tecnici e ribaltoni. Decidono i cittadini. La trappola telefonica dei russi. Si dimette il consigliere Talò, il premier. Superficialità. E poi a Napoli imbrattati i volantini con le fotografie degli ostaggi. I manifesti con i volti degli ostaggi di Hamas sfregiati a Napoli. Poi USA e Israele. Tensione sulla tregua. Prosegue la guerra a Gaza. La battaglia contro l'occupante sionista e legittima, dice il leader di Hezbollah, Nasrallah. Il segretario di Stato americano Blinken a Tel Aviv insiste sulle pause umanitarie. Netanyahu lo gela. Prima gli ostaggi. E a Napoli sfregiate intanto appunto le immagini dei rapiti sui manifesti affissi in città per sostenere Israele. Cultura e turismo. Napoli sarà vetrina internazionale. San Giuliano a fine mese. La conferenza UNESCO-Tajani segnale importante per il mezzogiorno. Il ministro San Giuliano annuncia la conferenza UNESCO. Napoli diventa vetrina internazionale appunto per cultura e turismo. E ora proseguiamo la lettura. Il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, diretto da Roberto Napoletano, apre sulla bandiera e la bandierina. Questo è il titolo. Il piano Mattei è il simbolo dell'Italia che ci piace. La proposta di premier atto è senza fiato e va aggiustata. La nuova governance si muove nella direzione giusta. Esprime la intuizione strategica di politica estera ponendo al centro i quattro mediterranei partendo dall'Africa. Si misura con polveriere a cielo aperto, armi e soldi a usura delle autocrazie, ma può vincere con lo spirito della nostra carta di Napoli, di un partenariato non colonizzatore e grandi investimenti sul capitale umano. La proposta di premier atto alza la bandierina della terza repubblica, ma non dà la reale direzione al presidente del Consiglio eletto e impone per il capo dello Stato un consenso più rappresentativo dello stesso Parlamento. Via al piano Mattei l'Italia ritorna protagonista nel suo Mediterraneo e precedenti dei grandi progetti per l'Africa. Poi governance globale sfuma il tentativo per dare nuove regole. A Marrakesh Antonio Guizzetti scrive la recente riunione annuale ottobre 2023 del gruppo della Banca Mondiale del Fondo Monetario Internazionale di Marrakesh in Marocco doveva cambiare le regole del gioco della governance globale. Infatti dopo la riunione dei BRICS di Johannesburg e il G20 di Delhi mi aspettavo che finalmente fossero avviate quelle riforme del Fondo Monetario Internazionale del gruppo della Banca Mondiale che sono urgenti. La Calabria aiuta alla Toscana solidarietà non autonomia per i nubi fragi con vittime nella zona di Prato. E poi gli ultimi focus Israele e Nasrallah minaccia ma non invoca la guerra totale. Kazakstan, Erdogan rilancia l'organizzazione degli stati turchi. Spagna, Puigdemont, cruciale per la nascita del governo Sanchez. Ed era questa la nostra ultima notizia della rassegna stampa odierna. Noi come di consueto vi ringraziamo per averci seguito e vi rimandiamo alla prossima edizione. Vi auguriamo una serena giornata in compagnia dei nostri programmi televisivi.